Dall'anno scorso è ripartita la tradizione, orgogliosissimi perché 27 anni non sono pochi e quindi il calendario va ed è partito, soprattutto anche grazie a delle illustrazioni di un artista di fama internazionale che è Marco D'Agostino. La presentazione del calendario 2022 della Polizia Locale di Monte Silvano, nel quale sono raffigurati immagini del lavoro svolto con grande spirito di abbenegazione nel quotidiano dagli operatori della sicurezza, è stata l'occasione per fare il punto sulle attività di controllo svolte in questo anno su tutto il territorio di competenza. 25.000 infrazioni al codice della strada, soprattutto grazie all'ausilio del Fotored, 250 violazioni per regolamenti comunali, 160 incidenti rilevati, una settantina i fascicoli depositati in procura per indagini, tra cui quella di Via Lopardi, dove sorge il palazzo sgomberato lo scorso luglio. La municipale ha inoltre intensificato i controlli anti-Covid, così come richiesto dal tavolo prefettizio e dalla prima settimana di dicembre sono stati identificati 1.500 trautenti, dipendenti e titolari, dove è stata combinata una sola contravvenzione. Ma noi ti posso dire, io parlo da comandante di una città dove sono nato, vissuto e nella quale faccio questo lavoro da circa 40 anni, quindi io ho un rapporto personale e anche i miei agenti eccellente, il rapporto con la città è di collaborazione e di vicinanza, è normale, facciamo le contravvenzioni ma è il focus del nostro lavoro. Un organico però numericamente non adeguato ad una città così grande, sottolinea il sindaco Ottavio De Martinis, il quale annuncia come il prossimo anno sarà importantissimo grazie ad un nuovo concorso che porterà all'assunzione di nuovi vigili. La bella notizia è che il 2022 vedrà un concorso che riequilibrerà insomma la necessità, l'esigenza del territorio con quello che appunto è il numero di agenti necessari per assicurare al meglio tutti i servizi. E quindi un 2022 importante, un 2022 che regalerà sicurezza e tanto altro ai cittadini.